Ciao, dateci qualche attimo per allestire questo pacco e anche per annunciare che noi dedichiamo questa performance all'amico Candelo, per il quale chiederai un bel applauso. Ancora un attimo, scusate. E vorrei presentarvi la strada di questo show, Sergione. In the beginning, all'inizio, Candelo, the light, io che vedo la luce, solo thereafter, poco dopo, Dio commise tre grossi errori, il primo errore si chiamò uomo, il secondo errore si chiamò donna, e il terzo errore fu l'invenzione del barconcino. Il motivo per cui il barconcino fu un errore così grosso è perché Dio, originariamente, voleva fare uno schnauzer. Ma accarnato. Tantissimo tempo fa, il barconcino era un cane molto bello. Il barconcino aveva il vero distribuito uniformemente sul suo corpo, statuario sessuale di cane. Il barconcino sembrava un cane come tutti gli altri. Diciamo che i cani dell'ovicinato non lo prendevano per il culo perché separava uno con un cane come tanti altri. E l'antichità non lo prendevano in giro. Ma la donna, come sapete tutti, è sempre stata molto più intelligente dell'uomo, fin dall'inizio dei anni. L'uomo farebbe qualsiasi cosa per avere un po' di figa. Ed ecco perché la donna ha sempre il controllo dell'uomo. Sergione Stefanino Francone All'inizio, la donna guardò l'uomo dritto negli occhi e gli disse Senti, perché non vai a trovarti un lavoro così io posso stare sola in casa e usare alcuni oggetti? Quello che mi serve principalmente è A clipper Delle mollette A sizzle Delle forbici And apparels E dei quizzeri incrostati di zirgone. Grazie tante. Non ho capito Basta All'inizio, la donna guardò l'uomo La donna guardò l'uomo e l'uomo perché l'uomo aveva capito prima che le tante e la proporzione del judo era molto, molto più piaciuta. In mano, perché aveva già visto prima che il barboncino era molto bello. Tranne per il fatto che questo barboncino aveva troppo pelo sul suo corpo. E quindi questa donna si preparò a modificare l'aspetto del barboncino. Ma aiutiamoci con le immagini. Capisco che ha. Gli ha tagliato il pelo dal collo, mostra bene. Dal collo, dal torace, dai tuzzi. E anche da questa zona qui chiameremo Salone della Musica. Poi si vise in questa posizione sexy. E poi, si vise in questa posizione. Si piegò sulle gambe, ah! Perfetto! E poi, dopo che, si vise in questa posizione. E poi, dopo che, si vise in questa posizione. E poi, dopo che, se vise in questa posizione. E poi, dopo che, se vise in questa posizione. Perfetto! C'è un bel salto! Poi! Grazie! E poi, dopo che, se vise in questa posizione. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione